Ma non è questo il punto ormai, fiducia e sfiducia, siamo al quarantesimo voto di fiducia. È chiaro che questo governo qui ha raccattato un po' di numeri parlamentari e pensa con questo di difendersi dalla realtà. Ma la realtà è quella che è fuori, noi la interpreteremo nel dibattito in aula di oggi.